Buongiorno, in questa terza lezione sull'impresa e l'imprenditore parleremo della contabilità. La contabilità si può dividere in contabilità generale e contabilità industriale. La contabilità generale la possiamo definire come l'azione aziendale relativa alla gestione economica dell'azienda. La proprietà e gli azionisti effettuano delle scelte per ottenere i profitti, per ottenere l'utile. Parliamo di azionisti quando abbiamo una società per azioni. Quindi la contabilità generale definisce le relazioni tra l'azienda e il mondo esterno attraverso questi compiti che andiamo ad elencare. Considerare il valore dei fattori al momento dell'accertamento e registrarli in ordine cronologico. determinare il reddito d'esercizio e la situazione patrimoniale, rilevare i dati effettivi in modo sintetico e oggettivo, rilevare i costi e i ricavi secondo la loro natura, valorizzare le giacenze di magazzino secondo criteri civilistico-fiscali e determinare il valore degli ammortamenti in base alle normative civilistico-fiscali. I ammortamenti sono la suddivisione dei costi e degli investimenti in più anni, quindi portare, dividere un costo su più utili. tutte queste cose che abbiamo elencato, cosa stanno a significare fondamentalmente? Significa che la contabilità generale è ciò che si occupa della contabilità fiscale, vera e propria, civilistico-fiscale. Mentre la contabilità industriale è lo strumento con il quale la direzione, l'imprenditore, eccetera, valuta i costi sostenuti per realizzare i prodotti e i servizi. Quindi la contabilità industriale ha seguenti compiti. Considerare il valore dei fattori al momento dell'utilizzo e registrarli secondo la competenza, determinare il risultato gestionale del periodo, utilizzare dati analitici, soggettivi, effettivi o previsionali, determinare i costi e ricavi della gestione per prodotto o per unità produttiva, valorizzare le giacenze in magazzino secondo criteri non più civilistico-fiscali ma gestionali, determinare il valore degli ammortamenti, anche qui a livello gestionale, tecnico-economico e non civilistico-fiscale. Cioè, di che cosa si occupa la contabilità industriale? Riassumendo, si occupa di tutte della gestione della contabilità relativa alla produzione e all'impresa per determinare in che modo organizzare la propria impresa, i costi dell'impresa per vari settori, per vari prodotti, per i prodotti, per la produzione, per la gestione, per le energie, eccetera. Quindi, essa si basa sui costi diretti o sui costi indiretti e sui costi indiretti. I costi indiretti sono quelli che sono proporzionali al prodotto e alla produzione. I costi indiretti sono quelli che non posso ascrivere, cioè imputare direttamente al prodotto e alla produzione di quel determinato prodotto e sui centri di costo, che poi spiegheremo nella prossima lezione. Ovvero, i centri di costi sono i vari enti in cui è divisa un'azienda, cioè l'amministrazione, i diversi reparti, manutenzione, eccetera. a cui, naturalmente, è necessario avere una sovvenzione economica a questi centri di costo per il proprio funzionamento. Quindi, diciamo, si basa sui costi diretti, che sono quelli proporzionali al prodotto. I costi indiretti sono quelli che non possono essere considerati come proporzionali al prodotto e che servono ai vari centri di costo, cioè al reparto di produzione, al reparto di manutenzione, al reparto amministrativo, per funzionare. Grazie. Grazie.